Buonasera amici, la Champions League chiama e la Juventus nel gruppo G dovrà rispondere contro Barcellona, Dinamo Kiev e Ferenc Varos. Diciamo sulla carta un'urna benevola per i bianconeri, quindi ci sono grosse possibilità di centrare l'obiettivo, ovvero ottenere la cima del gruppo per poi cercare quantomeno sulla carta un ottavo più agevole. E' chiaro che se pensiamo a Juventus e Barcellona inevitabilmente la concentrazione va, sì hai tanti anche incontri recenti perché Max Allegri per esempio sembrava che avesse una calamita per i Blaugrana, però è chiaro che è già clima di sfida nella sfida tra i due calciatori più forti al mondo, ovvero sua maestà Cristiano Ronaldo e sua maestà anche Leo Messi. Poi c'è anche subito il ritorno di Miralem Pjanic a Torino e quello di Artur appunto al Camp Nou, però è chiaro che il grande focus, il macro argomento sarà la sfida tra questi due incredibili campioni che dopo essere affrontati più riprese nella Liga lo faranno ora in un'altra veste, tipicamente però questa volta europea appunto nell'Europa che conta. Diciamo che sarebbe potuto andare peggio la Juve, diciamo anche che poi un club ambizioso come quello bianconero deve anche pensare di poter affrontare test probanti appunto per misurarsi e per cercare di riportare a casa un trofeo che manca ormai da lontano 1996. Chiaro, sulla carta Andrea Pirlo ha sostanzialmente la strada spianata per entrare agli ottavi, che sarebbe un primo passo per poi anche cercare di capire il livello di questa Juventus che partirà secondo me un pochettino in sordina in questa manifestazione della Champions, perché le chiare favorite, e poi affronterò questo argomento in un video apposito nei prossimi giorni, credo che siano altre su tutti i Bayern Monaco, che indubbiamente anche a un livello di forma psicofisica è la squadra più temibile, e l'ho anche dimostrato poi nell'ultima edizione dello Champions, triturando praticamente chiunque pur avendo qualche difficoltà in finale contro il Paris Saint-Germain. Gli stessi parigini hanno ottenuto ormai una crescita esponenziale, quindi dopo aver spiorato la vittoria contro il Bayern, credo che abbiano tutte le carte in regola per cercare appunto di conquistare questo trofeo. Poi ci sono le grandi classiche, come l'ossessore al Madrid, se vogliamo il Manchester City, il Barcellona, e ci metterei poi in questo lotto, in questa fascia anche la Juventus, perché poi partire in sordina potrebbe anche rivelarsi produttivo, non è detto che magari pensare che la Juventus quest'anno non sia attrezzatissima per la Champions, poi si riveli automaticamente una verità, la Juve dovrà fare il suo percorso, la Juve è comunque una squadra che ha fatto le sue finali di Champions, anche se vogliamo in anni recenti, tra Berlino e Cardiff, hanno avrata la sua fila il miglior giocatore al mondo, assieme a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, è una squadra che avrà anche dell'entusiasmo utilizzato poi dalla prima esperienza da allenatore in Champions di Pirlo, uno che comunque da calciatore questa competizione l'ha conosciuta bene, l'ha vinta per due volte contro il Milan e ha perso una finale a Berlino con la Juventus. Quindi diciamo che la Juventus dovrà fare il suo percorso, ripeto, personalmente ritengo che le chiare favorite siano altre, però si può fare bene, si può fare bene, adesso vedremo anche come verrà chiuso questo mercato che è stato estremamente complicato, estremamente impattato dal Covid-19, con però i bianconeri che qualcosina hanno fatto soprattutto in termini di ringiovanimento dell'organico, basti pensare all'arrivo di Kulusevski, dello stesso Artur, di McKennie, cioè calciatori che in chiave progettuale dovranno imporsi nelle gerarchie di Pirlo e diventare calciatori centrali, calciatori pressoché imprescindibili. Quindi per le valutazioni del mercato anche qui faremo un video apposito nei prossimi giorni, gli argomenti non mancano, intanto il gruppo G è chiaro, il gruppo G non ammette errori, il gruppo G probabilmente sorride ai bianconeri che in virtù anche di un girone non estremamente provante, non estremamente impegnativo in Champions League potranno magari fare anche un turnover più ragionato in funzione del campionato. Fatemi sapere cosa ne pensate appunto di questo girone, scrivetemi nei commenti, vi abbraccio e soprattutto se siete tifosi della Juventus iscritte al mio canale YouTube e mettete like ai miei video.